Ciao, io sono Angela e tutti sul mio canale Tutto dal Web. Lieta notizia per Tiziano Ferro e suo marito Victor Hallen, che sono diventati papà. L'ho annunciato lo stesso cantante sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con Victor mentre bacia questi due splendidi bambini. Ecco qui la foto che proprio Tiziano ha pubblicato. Due telefonate, dice, mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima, qualche mese fa, una bimba. La seconda, poche settimane dopo. Questa volta un bimbo, ha scritto Tiziano. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andreas, questi i loro nomi. La nostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra. Nel post il cantante non dice nulla della provenienza dei tuoi bambini, anzi, spiega che eventualmente sarà loro la decisione al momento giusto per raccontarsi. Saranno solo e soltanto loro a decidere quando e soprattutto se vorranno condividere con il pubblico questa grande gioia. È un diritto insindacabile. Grazie per l'amore, dice Tiziano, per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene, conclude nel post. E noi non possiamo che augurargli tanti auguri per questa immensa felicità nell'abbracciare questi due meravigliosi bambini. Scrivimi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.